Ancora un pacco contenente droga è stato scoperto sulle spiagge siciliane, questa volta sul litorale del comune di Terranova nel Messinese dove la Guardia di Finanza ha trovato 600 panetti di ascisce per un totale di 30 chili abbandonati in spiaggia. Il ritrovamento in seguito ad una telefonata al numero di pubblica utilità, il 117, che segnalava la presenza di strani involucri abbandonati sulla sabbia. Sono state avviate le attività di perlustrazione della zona a cura dei reparti del gruppo della Guardia di Finanza di Milazzo e delle unità del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Palermo per verificare l'eventuale presenza di altre sostanze stupefacenti. Negli ultimi mesi sono state diverse le segnalazioni che si sono susseguite dalle coste di Agrigento a Trapani fino a diverse località della provincia di Messina, quello odierno e il terzo ritrovamento nel giro di pochi giorni. Già ieri 33 chili di ascisce erano stati recuperati sul litorale trapanese di Pizzo Lungo e qualche giorno prima una scoperta analoga era stata fatta a Birgi nei pressi di Marsala. La sostanza stupefacente che sul mercato al dettaglio avrebbe potuto fruttare fino a 300 mila euro è stata sequestrata. Proseguono intanto le ricerche per individuare i responsabili.